Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi voglio mostrarvi altri due acquisti, uno fatto da H&M e l'altro invece fatto da Motivi. Prima di iniziare vi invito a supportare il mio canale iscrivendovi e se vi va supportatemi anche su Instagram e su TikTok. Vediamo cosa ho acquistato in questi due negozi. Come potete vedere dietro ho un'arella, ancora un po' con tanti capi appesi, devo mettere via un po' di cose. Ne ho approfittato oggi, ho deciso finalmente di fare il cambio stagione per quanto riguarda l'armadio centrale. Quello di mio marito lo avevo già fatto, il lato destro, il lato sinistro mio no. Mentre per quanto riguarda la parte centrale, quella dove ho i pantaloni, cardigan, insomma tutte queste cose qui ho deciso di farlo proprio oggi, non è sistemato benissimo. Dovrei fare un decluttering ma non avevo tempo, quindi ho eliminato qualcosina rovinata, ma ho sistemato in questa maniera. Io direi quindi, prima di mostrarvi che cosa ho acquistato, vi giro le immagini e vi faccio vedere come ho strutturato la parte centrale del mio armadio. Allora, non mi ricordo chi mi avesse chiesto un video, sono passati parchi mesi, per vedere come era strutturato il mio armadio. Nella parte centrale ho tre cassetti, in quello più in basso tengo i costumi miei e di mio marito, in quello centrale tengo il mio intimo e invece in quello superiore ho tutte le cose, le maglie termiche e anche pantaloni termici, sia miei che di mio marito per quando andiamo in moto. Poi nella parte centrale, come vi ho detto, io non stiro le cose, ma le stiro al bisogno. Ho deciso di mettere via, cioè di avere tutti questi spazi qui, con le cose a portata di mano, quindi magliettine a manica corta, qui ho tutte le sottovesti e dei pantacollant, qui ho tutti i body, capi in denim, altre magliettine, idem. Ho dei vestiti che potrei utilizzare ancora ora, ma insomma sono un po' più estivi. Qua al lato ho delle cinture che ho voluto mettere sopra queste scatole dove ho altre cinture però che utilizzo di meno, qui ho le mie cinture elastiche. Come vi ho detto non vi prendevo in giro, adesso qui sta uscendo tutto, perché stamattina ho preso una cosa. Come vi ho detto io non sono ordinata, cioè magari cerco di essere ordinata, poi devo cercare una cosa e porto confusione. Un tempo dividevo le maglie per colore, adesso ho deciso di rinunciarci. In questo lato qui ho tutti i miei pantaloni, jeans, ho fatto una cernita, ho tenuto sole unicamente quelli che mi stanno e quelli che non mi stanno, lo vedete ma qua dietro c'è un'altra scatola però grande, altre due piccole sotto dove ho i capi estivi e le cose che non mi stanno. Qua ho tutti i pantaloni sia i leggings in ecopelle. Per fortuna non li avevo comprati perché l'altro giorno sono andata da Tezenis, pensavo di non averne più perché i leggings in ecopelle a me si rovinano ogni anno quindi mi fanno esagerando una stagione e invece mi sono resa conto che mi avevo gettato via dei leggings ma ne ho di diversi colori disponibili, un nero, un panna, il verde, il bordeaux, il grigio e il marrone però marrone rimane un modello un po' più larghino. Quindi qua ho tutti i pantaloni e qua, cioè pantaloni nella maggior parte dei casi da me sono o leggings oppure jeans, io pantaloni praticamente non ne possiedo quasi niente. Poi qua sopra, io adesso non prendo la scala per mostrarvelo, ne ripiano qua superiore, ho dietro tutte le scatole, infatti ne vedete una che sembra che si stia aprendo con tutti i vestiti, comunque dietro ho tutta una parte a destra di cassettini piccoli, quattro e a sinistra tre giganteschi dove ho messo tutte le cose estive, quindi non devo aprire i cassetti che ho dietro e qua davanti a destra ho messo le mie tute e a sinistra una parte di maglioni che utilizzo e anche di felpe. Questa è la vista non ordinatissima però, insomma, poi io chiudo l'armadio, non vedo e quindi risulta tutto in ordine. Ho un ordine online per quanto riguarda H&M, mio figlio doveva prendere dell'abbigliamento, lui ha ordinato sei capi e io ne ho ordinato solo uno. Ho già tolto il targhettino, mi sono resa conto che era scucito in un polsino, lo cucirò, però comunque sia lo tengo. Si tratta di questo cardigan che rimane con le frange nero e bianco. In questo lato qui è leggermente scucito, non so se si riesce a vedere, però va bene nella cucitura quindi lo sistemero io. Rimane molto morbido, un po' over, la taglia è una taglia L e mi sembra di averlo pagato con lo sconto forse intorno ai 7 euro. Non me lo ricordo con esattezza perché avendo preso altre cose non mi ricordo. Poi da motivi c'erano degli sconti stamattina, sconti del 50 e mi sembra del 30. Mi sono piaciuti due articoli, alla fine ne ho scelto solamente uno. Vi ho detto che i miei acquisti ultimamente sono ponderati, quindi non mancandomi i capi d'abbigliamento o comunque make-up ed altro, ho deciso e mi sono imposta di non acquistare cose inutili o comunque che ho simili. Ho deciso proprio di acquistare in saldo e voi avete visto che ultimamente, a parte i beni di primaria necessità, io acquisto solo in promozione o con i saldi e alla fine tra questi due capi ho optato per un capo, un'altra cosa che vi ho detto più volte, preferisco acquistare un abbigliamento che non abbia stagioni. La lana, come per esempio il cardigan che vi ho fatto vedere, ovviamente non si mette tutto l'anno, quindi li prendo proprio se hanno dei prezzi stracciati e in questo caso non è solo il prezzo ma anche il golfino, sto scherzando, ma dei capi che possano essere utilizzati un po' tutto l'anno, perché secondo me sono un ottimo investimento. Ho voluto acquistare questa giacca, loro nel sito ho visto che la descrivono come capottino in neoprene, ecco è tutto forché un capottino. Io ne ho una, sempre in neoprene, però rimane più consistente, quello può essere chiamato capottino, che rimane nero e all'interno felpato grigio. Quello l'ho ceduto a Federica, quindi ho deciso di prendere questo, anche se ripeto sono due cose completamente differenti, perché non avevo più quello, altrimenti questo non l'avrei acquistato. E' una giacca, sembra che abbia tre bottoni, con il nero non si capisce tantissimo, non ha giro manica, mi sembra che questa manica si chiami raglan, non ha polsino, rimane over, la taglia è una taglia L, era l'ultima che avevano in negozio, ma a prescindere mi piace il fatto che sia un po' over, anche perché mi piacerebbe utilizzare sotto il cardigan che vi ho mostrato. Poiché io ho tanti capi spalla, ma a parte qualcuno in denim, o comunque quelli in denim estivi che rimangono un po' abbondanti, io ho tutte cose un po' sagomate, quindi i cardigan per me è impossibile metterli sotto i capi spalla. Ho deciso quindi, anche se questo, ripeto, è tutto forché un capottino, ho deciso di mettere per esempio anche il cardigan che vi ho mostrato prima qua sotto, di portarlo così. O comunque utilizzarla con una giacca, quindi con una camicia, io ho delle giacche nere, io ho due, una mi sembra di oltre una di motivi, e sono tutte e due sagomate, quindi un capo del genere non lo avevo. L'ho preso in promozione al 50%, mi sembra che mi abbiano tagliato il targhettino, dopo vedo se trovo lo scontrino, qua c'è il bottone di riserva, la taglia che ho preso è una L, se riesco a risalire al codice ve lo metto qua al lato insieme al prezzo, così qualora potesse interessare a qualcuno di voi potete reperirlo, visto che online è presente e appunto viene chiamato capottino in neoprene. Allora, è neoprene, però è un neoprene diverso da quelli che possiedo, è un incrocio tra un tessuto tecnico, una licra e il neoprene. Comunque come pesantezza, senz'altro è più leggera del neoprene che vi dicevo che ho ceduto a Federica, io ce l'ho in rosso, anche se quello nero l'ho utilizzato tanto, mi piace, quello rosso un po' di meno, perché ha il check interno che rimane un po' maculato e quindi un po' mi vincola. Questo è il capo, spero che si sia capito qualcosa, lo rassomiglio un po' a quello marrone che ho di Seventy, solo che quello di Seventy rimane più corposo, più consistente e anche foderato, questo è sfoderato, però ecco è senz'altro un qualcosa che io utilizzerò prettamente primavera e autunno, però anche d'estate, di sera, quando incomincia il freschetto o d'inverno con qualcosa sotto e magari qualcosa anche sopra, ho pensato di metterlo anche con il mio 100 grammi di motivi con il cappuccio, quindi da mettere sotto e vestirmi a cipolla. A parer mio, ultimamente il miglior tipo di abbigliamento è questo, cioè vestirsi a strati, perché mi sono resa conto che quando siamo troppo coperti poi alla fine sudiamo e poi alla fine ci si ammala, invece vestirsi a cipolla, a parer mio, aiuta a non soffrire né il caldo né il freddo. Allora, ho trovato lo scontrino, così via vicino, aspettate che vedo se ci sono dei miei dati. Allora, questo è il costo. Scontato al 50 è quello che ho pagato. Senz'altro mancava il prezzo, perché secondo me è un capo che è stato cambiato da qualcuno, quindi avevano tagliato il prezzo e l'hanno rimesso in vendita, perché mi ricordo che non era presente il prezzo, infatti ho chiesto alla ragazza quanto venisse. Mi ricordo questo particolare. Comunque io sono contentissima, come al solito, perché sì, ho deciso di ponderare di più gli acquisti, ho deciso di comprare di meno, ma comunque compro e a parer mio sto comprando senza farmi guidare dall'impulso. Infatti avrei acquistato anche l'altro capo che era un bomberino molto particolare, però comunque sia che se c'è troppo freddo hai una parte scoperta perché era un po' tipo K, quindi ti copriva mezzo braccio. Se c'è caldo fa troppo caldo, insomma non era un giubbottino dove in una giornata proprio di tantissimo freddo ti copriva, perché comunque rimaneva un po' corto e questa parte era comunque nuda. Molto carino per carità, però alla fine mi sono trattenuta e ho voluto limitarmi solo all'acquisto di questa giacca barra capottino in neoprene. Come tinta labbra sto utilizzando oggi, ho la tinta e non ci vedo neanche se ve lo avvicino, la tinta quella che avevo ordinato da Oulac e spero che si veda il codice, ma adesso non so se l'ho messo dritto, mi è piaciuta, cioè mi è piaciuta, mi piace tantissimo come colorazione, vi ripeto le mie labbra non fanno testo, sono molto secche, però ecco al massimo bisogna idratare meglio le labbra. Il mio outfit vi metterò le foto qui e noterete soprattutto nella foto quella vista da dietro che ho i capelli molto secchi, perché stamattina li ho lavati, non avevo la minima intenzione di passarmi la piastra perché dovevamo uscire per fare la colazione e quindi mi sono legata ai capelli, si vede che sono molto crespi, li ho leggermente piastrati quando sono tornata, tra l'altro con la piastra piccolina e mi sono resa conto che comunque un prodotto che ho acquistato a Roma mi sta facendo bene, lo stiamo utilizzando io e mio figlio il riccio, il più grande Giuseppe, e ci stiamo rendendo conto che per noi che abbiamo un capello riccio che tende a rimanere crespo, il mio ancora di più perché è un capello trattato, ci sta facendo bene. Io metto questo olio, lo vado a prendere, l'ho preso per mostrarvelo, vi avevo già fatto un video o forse un reel, adesso non ricordo quando ero a Roma, sia la crema corpo che questo. La crema corpo non è male, la profumazione non ne ha, però quel pelino che si sente non mi fa impazzire, quindi senz'altro la crema non la ricomprerò, mentre per quanto riguarda l'olio, dermorigenerante alle ceramide vegetali, viso, corpo e capelli, sinceramente io lo ricomprerò. Vi mostro quanto ne ho utilizzato, questo tanto qui, lo metto da capelli asciutti, l'ho tenuto in posa all'incirca un paio d'ore e poi ho lavato la testa, dopo non l'ho rimesso. Si potrebbe aggiungere però col fatto che avrei voluto passare la piastra, ho preferito evitare perché presumo non faccia bene mettere quest'olio e poi passare la piastra perché mi si bruciano i capelli. Come odore non è fastidioso, senz'altro meno della crema, ne ha lo stesso pochissimo, quasi niente, però questo è fattibile. Quello della crema corpo, la crema corpo ce l'ho, la utilizzo, prima metto l'acqua termale e poi passo la crema perché la sento se non un po' troppo corposa. Ripeto, per quanto riguarda la crema non è niente di che, quindi senz'altro quella non la ricompro. Questo mi sto trovando bene, si sta trovando bene anche mio figlio e quindi di conseguenza, a meno che non troviamo un altro prodotto da provare, siamo rimasti piacevolmente soddisfatti. Basta, per quanto riguarda i gioielli che porto, ho il mio anello in argento con la pietra grande e ho ritrovato dopo tantissimo tempo, li portavo insieme, vi avevo già detto che quest'anello l'ho trovato per puro caso e sempre dove avevo trovato lui ho trovato anche questo che è un fermanello sempre in argento, molto molto grosso, bombato, mi piace tantissimo, tra l'altro anche molto pesante e mi piace portato con l'anello, io li avevo presi proprio insieme e sinceramente molto di più così che portato con l'anello di Pandora. Poi ho il mio braccialetto portachiavi, ho staccato la chiave della macchina, ovviamente in questo bracciale portachiavi non si possono appendere i mazzoni di chiavi, uno perché danno fastidio e due perché scenderebbe, però è consistente e compatto. Questa è una cosa che si può portare in velocità per chi ha cani, esce di casa e vuole avere giusto una o due chiavi a portata di mano. Io personalmente lo utilizzo solo per le chiavi della macchina, l'ho staccato anche perché la macchina l'ha presa mio figlio e mio figlio questo qui non lo utilizzerebbe. a sinistra i miei soliti braccialetti, i miei soliti cerchietti e nient'altro. Comunque potete vedere che per aver passato leggermente la piastra piccola mi ritengo sinceramente soddisfatta. È la prima volta da quando utilizzo questo prodotto che mi faccio io i capelli lisci a casa. Li facevo sempre naturali e mossi. Sono contenta, per il momento era da parecchio che a casa non mi venivano così, cioè meno crespi. Il mio video termina qui, spero come sempre di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo prestissimo con un altro mio video. Ciao a tutti e buona serata.